Allora, un attimo, un attimo, facciamo un attimo, mettiamo le robe in fila. Allora, perché chiaramente andiamo su tutte e due le partite, i prepartita e le formazioni e le quote, però noi sapevamo, almeno ci eravamo lasciati con Nd9, che aveva una speranza, che era un po' più di una speranza, di vedere oggi in tribuna per la partita con la Roma la nuova propria. Uccello, ma scusi, ma lei che rischia? Di Silvio, di Silvio se no altro, l'intermediario, quello che ha portato avanti la trattativa, che sta portando avanti la trattativa. È a Roma, è al cinema. Sì, è al festival del cinema, non è al cinema, che sennò sembra... Quindi non c'è. È stato a Genova, è stato a Genova venerdì scorso, è arrivato a Genova venerdì scorso. Sì, perché il suo volo è stato direttato a Pisa, è stato dirottato a Pisa, tra l'altro, per vari scioperi che c'erano qua a Genova. C'è da dire, oggi, poche ore fa, come Luca sicuramente già sa, Lanna, Marco Lanna, il Presidente, ha dichiarato ottimismo verso questa trattativa. Ci sono proprio le sue parole sul messaggero, su Mediaset. In realtà non sono esattamente così. Lanna ha detto sul messaggero, aspettiamo i compratori arabi, siamo a ottobre, i soldi non ci sono. Da quello che so, loro li metteranno. Perché montare questo circo, se poi non vogliono comprare il club, sono fiducioso. Sarà come quelli dell'Inter, sarà come PIP dell'Inter. No, poi lui aggiunge... Sembra un Manenti bis, così dalle premesse. Non vi permettete. A uno sceicco non lo potete mettere sulla stessa lunghezza d'onda di Manenti. No, vabbè, stavo scherzando, ovviamente, per carità. No, ci sta, però c'era anche una parte finale dove lui dice, perché montare questo circo mediatico da parte... Ah, lo dice, lo dice, lo dice, lo dice. Sì, sì, perché montare questo circo se poi non vuoi... Sì, però mi sembra un po', Andy, dalle sue parole, come quando, diciamo, tu ti confessi col tuo amico, perché la tua ragazza, cioè, o la ragazza con la quale magari stavi flertando, poi non si presenta all'appuntamento, no? Che ti fai mille domande. Cioè, io ci evinco questo un po' dalle parole di Lanna. Beh, allora, innanzitutto, le domande, lui le domande di base, se li vengono già da giugno, nel senso, insomma, a giugno questo gruppo di imprenditori dello Sceico non c'entrava ancora nulla. A giugno c'era una trattativa già avanzata con un gruppo americano che poi, ad agosto, scompare. Loro avevano, infatti, lo stesso Vidal aveva detto 99% loro saranno i nuovi proprietari della Sampdoria e ad agosto questi qua scompaiono. E' lì, diciamo, i suoi dubbi che vengono? No, Vidal non sei mai esposto, Andy. Vidal così non sei mai esposto, perdonami. Non è... Ma, io avevo letto un'intervista, Eddie Vidal. Vendo da un'ora chiamata con Vidal, guarda. Ah, prego, prego. Sentiamo uccello, leggo solo... No, 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 è una chiamata, voglio dire, dichiarimento su alcuni argomenti, cioè, dove non è nulla... Non posso vedere, non faccio guarda, non faccio neanche il pezzo per il sito, come figurati, nel senso, figurati... Cioè, è un informale, diciamo, una chiacchierata? Molto informale, però, voglio dire, su tutto quello che sta succedendo, sui personaggi coinvolti, su Edoardo Stanchi, su Di Silvio, sull'Arabo... Ma, Luca, tu che idea ti sei fatto? E anche su un ex crew agent, che vuoi dire, che sarebbe meglio che la gente andasse magari a verificare un po' meglio chi si tratta. Non l'abbiamo fatto, ma aspettiamo, perché giustamente bisogna aspettare... Ma tu, scusami, Luca, tu che idea ti sei fatto a oggi, diciamo? Io, nel senso, come tanti tifosi da Sampdoria, io forse un po' prima rispetto agli altri, ma nel senso, non mi sono piaciute il modo dell'approccio, cioè, non ho trovato un approccio molto professionale. si parla di 200 milioni di affari, almeno in partenza, senza poi pensare a quello che sarà poi dopo, cioè, i continui investimenti. Approcciarsi così, rispondere sulle pagine Facebook, non ho trovato molto professionale, detto questo. Cioè, l'abito non per forte deve fare il monaco e, di conseguenza, mi limito ad aspettare e registrare tutto. Registro tutto, metto tutto da parte e poi, adesso le ultime... Ecco, l'unica cosa che posso dirvi è che mi dà, su questa cosa qua del giovedì, nel senso, non ha ricevuto scadente entro giovedì. ha sicuramente continui contatti e, soprattutto, continuo a ribadire che siamo, però, agli sgoccioli. Cioè, nel senso, si possono trovare ancora qualche... Ci può essere ancora qualche rinvio... Ti riferisci a questo, Luca, a questo articolo? Sì, esatto, 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 esatto. Quindi, diciamo che non è veritiero questo articolo. No, 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 no. L'articolo è veritierissimo perché ci sono anche le indicazioni virgolettate. Questo annuncio non è da parte... Non è che Vidal ha detto due punti, lui dice Vidal, ha detto io di garanzie, non è che ne ricevo garanzie. Tutti i giorni mi chiamano dicendo che ci siamo, è fatta, sta partendo, sto facendo, bim bum bum, ed è vero perché ci sono le controprove che stanno sicuramente portando avanti il tutto. Ma il bonifico oggi non è arrivato. No, 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 no. Allora, no, io non ho detto che è arrivato, ho detto l'altra volta... Lei ha detto che è partito, però. È stata anche già confermata, anche dall'ospite che abbiamo avuto, da Gerbi. Tornerà questa sera, tornerà questa sera. Sì, ma sa che su Gerbi, su YouTube, si sono un po' divisi, Andy, e le dico la verità. Allora, la storia di Gerbi... Allora, innanzitutto non è Gerbi che compra la Sampdoria. Gerbi è, in questo caso, un informatore, un informatore di Vitale, che è nel mondo del calcio da parecchio tempo. Ma che rezzo di mestiere? Non è Gerbi che si compra la Sampdoria, eh? E Gerbi non c'entra niente con gli arabi. Quindi quello che lui non è riuscito a fare a Marsala non vuol dire niente. Gerbi, in questo momento, è un informatore. Lui ci dà delle notizie che noi, visto che lui è vicino al mondo del calcio, è vicino al mondo arabo, noi non abbiamo. Quindi, quello che lui ha fatto nel calcio, che non è riuscito a fare, non vuol dire nulla. C'è Augusto che ci ricordava, però, diciamo, tutto l'escursus che tu avevi detto. I soldi devono venire monitorati, sicuramente, dall'antriciclaggio, ma attenzione anche dalla BCE. La BCE... Cioè, ma ragazzi, ma non è che porti mille euro, a parte che già mille euro in Italia è già difficile con mille euro. 40 milioni di euro, da un paese asiatico, medio orientale, portarli in Italia, con la BCE di mezzo, con l'antireciclaggio, con la FIGC, non è che puoi fare... Luca, ma scusami, confermi che c'è l'antireciclaggio che sta esaminando? Scusami, devo portare un saluto a Pancio. Ti saluto Roberto di Zushi. Non so... Ah, grande Roberto, grande Roberto, saluta, numero uno. Tanto Zushi, grandissimo posto ad andare a mangiare il giapponese. Sì, quanto si paga? Quanto si paga? No, no, no. Gli Emilia però, quello di Reggio Emilia, non gli altri. No, no, no. Quanto si paga? Sentiamo. Ma no, no, da Pancio, vuole sapere, da Pancio. Se vengono il mio poco, se vengono il mio poco. Sì, sì. No, 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 è giusto, perché la qualità è molto alta. Sì, è giusto. Perché? No, perché sicuro non hai mai pagato. No, 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 sempre, sempre. Non mi chiamo come i tuoi amici, te lo dico, per favore. Rimaniamo un attimo sul fatto. Luca, a lei gli risulta questo giro di soldi che doveva mandare sul pre-partita? Cioè, è già partito il bonifico, questi soldi sono stati mandati? Non ancora, non mi risulta. Azz. Ragazzi, allora, è notico che c'è. Allora, esiste, allora esiste. Lei aveva fatto il nome di una banca. Lei aveva fatto il nome di una banca. Allora, i nomi, ci sono i nomi dello studio di Ginevra di quello che tiene i conti per il Paris Saint-Cermain. Come si chiama? L'uccello lo conosce lei, questo qui? Sì, lo studio me l'ha confermato anche Vidal che ha contatti, non dico giornalieri, ma comunque ha continuo i contatti. Me l'ha confermato anche Vidal. Ok, bene, poi? Abbiamo, ed è stato detto, Dedi Silvio, sempre a Ginevra, lo studio notarile. Ci sono dei, già è stato fatto, un studio notarile che cosa vuol dire? C'è un studio notarile che esiste o c'è avvenuto qualcosa all'interno di questo studio notarile? Vabbè, lo studio che esiste, se uno... Ho capito. Ma ragazzi, ma questi qua, secondo voi... Lo studio notarile, lo studio notarile avrebbe confermato la veridicità del documento dello sceico sulla sua disponibilità. Sulla sua disponibilità. Sulla sua disponibilità, quindi... No, come no? No, no, ferma, ferma. Lo studio notarile ha verificato che i documenti presentati dal procuratore sono veri e che lui rappresenta effettivamente lo sceico Altari. Sulla sua disponibilità di comprare la Sampdoria. La documentazione sua, cioè che stiamo parlando di uno sceico che esiste, stiamo parlando di questa cosa qua. Sì, chiaro, parliamo però non che lo sceico esiste, non siamo l'anagrafe. Gli avranno... Loro sì, il notario sì, il notario sì. Gli hanno chiesto la carta di identità, Andy, per sapere il secondo. Sì, ok, però non è che chiedi la carta di identità a uno e gli dice a che cosa gli serve per comprare la Sampdoria. Io dico, ma che cazzo è la Sampdoria? Cioè, non te la mando nemmeno la carta. E allora, per il momento... Scusami, perdone, se tu vuoi comprare una macchina, banalmente, devi dare i documenti, se no... Certo, e vuol dire che lo sceico vuol dire che lo sceico vuole comprare la Sampdoria, se no la carta di identità ti dice, ma scusa, che qui sarebbe... Quindi, no, ma io ti dico questo, Luca, perché ci sono tanti geni nella chat che scrivono ancora lo sceico non esiste, cioè siamo ancora qua in suo cv, purtroppo, nella chat. Quindi... Vabbè, ognuno può trarre il suo parere, no? Ecco qua, esattamente. Vedi, quindi dobbiamo partire proprio dalle basi. Allora, un attimo, perché dobbiamo andare anche sui pre-partite, faccia l'ultimo riferimento, abbiamo parlato del notario, abbiamo parlato di questa carta di Ginevra, qual è l'ultimo? Scusi, no, Uccello, una cosa, lei esclude totalmente tanto a Tani, esclude totalmente... Allora, scusate, se fate così io mi stacco subito, se aprite quel sito lì io mi stacco subito, scusate, sono Club D'Ore 46 e mi ha prita la concorrenza. Ah, no, 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 Scusate, allora me ne vado, grazie a rivederci. Assolutamente, errore mio, errore mio. No, errore no, Manfredi, errore no, errore no, Manfredi, lo tolgo, lo tolgo. Non siete ospitali, non siete ospitali. Le chiedo scusa a nome di tutto il programma che poi siamo io e quello lì, purtroppo mi è capitato lui. Allora, glielo apro io, eccolo qua, complimenti, il più grande sito della San Doria di sempre, di sempre. Bravo, bravo. Alleluia, dicono in chat, finalmente un sito serio. Allora, cos'è questa cosa? Ecco qua, Ciccene San Doria, di Silvio Fissa, la data da Vidal, secondo voi, quindi, che poi dopo tanto ci abbiamo la puntata stasera, stiamo parlando ragazzi di, cioè, una chiave di volta, cioè, o si chiude entro oggi, domani, o niente, cioè, anzi, oggi era in teoria la data. No, 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 io credo che, nel senso, non sia ne oggi, non sia giovedì, ma, entro comunque la settimana, quello, mi pare che sia un po'... Tieni conto che in tenervi, le banche in Qatar, nel mondo arabo, sono chiuse, quindi, secondo me, come? Che ne sa lei? Allora, io guarda, Andi, perdonami, allora, io poi ti ripeto, poi sono smentito, ci mancherebbe, e ne sarei anche felice, ma, che adesso, nel corso di una trattativa così importante, dove ballano 200 milioni, che per noi sono tantissimi, probabilmente per lo shake, sono poco e niente, ma sentirmi dire, che il venerdì la banca è chiusa, che immagini, questo è, lo so Luca, però, se non c'è fisicamente, se vado in banca io, se vado in banca io, mi dicono, guardi, signor Uccello, sono le 4, 4 e 15, 4 e 20, chiudiamo, ci vediamo lunedì, va bene, ci vai tu, uguale, se vado io, probabilmente mi tengono, perché, gliene devo ancora, tu dici, Luca, per uno che deve spostare 40 milioni, no problem, no? 200, 200, 200, ho la chiamata in diretta, di un personaggio, che riguarda il trattamento, e poi ne parliamo dopo, no, risponda, viva voce, viva voce, non posso, vabbè, intanto andiamo sul pre partita, però ci aggiorni, magari, risponda pure, risponda pure, Luca, allora, stop, andiamo un attimo sul pre partita, tanto ne parliamo stasera, ragazzi, quindi Luca, se puoi, magari ci sentiamo anche dopo, se puoi, non so, venire stasera, magari se hai delle esclusive, stasera, occhio perché c'è Gabriele qua, è chiaro, Giad, 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 Giad di Capri, non so, come che è già, è diciamo uno di, è uno che sa delle cose su Altani, importantissime, non lo conosce lei? no, non lo conosco, mi spiace, non lo conosco, beh, l'altra volta ci ha dato delle belle dritte, mi pare di capire, ti ha detto anche qual è, qual è il business di Altani, perché vuole investire sulla Sampdoria, quindi poi anche su Genova e sulla Liguria, costruire alberghi, costruire alberghi, costruire complessi residenziali, una cosa fantasiosa, cioè non ci vuole tanto, è logico che non veniva a Genova perché gli piacevano le trenette al pesto, nel senso, avrò voluto avere un suo ritorno, se ascoltiamo di Silvio, sì, se ascoltiamo di Silvio, sì, come dire, perché di Silvio ha detto che, però Luca, escludiamo, escludiamo che alle 18 ci sarà, non so, Vialli qualcuno in tribuna? Sì, io no, assolutamente, assolutamente, ma è un brutto colpo per noi, eh, lo so, però dalle parole stesse, che mi ha detto oggi, si capiva che oggi in tribuna non ci sarà nessuno, ma la forza è meglio, perché comunque, ma sei stato tu a dirci che ci sarà Vialli, no, no, Vialli, no, no, aspetta, Vialli non ho mai fatto il nome, come ho detto, ci sarebbe stato Di Silvio, con forza anche Bonetti, quando uscita, scusami Andy, quando uscita, mai? No, quella roba lì era una cosa che Di Silvio aveva detto, aveva messo una, una deadline, come Sampdoria a Roma, la presentazione di, della nuova dirigenza. Ma l'aveva detto, l'aveva detto anche col Bologna, ti ricordi? L'aveva detto col Bologna, vuoi dire? Sì, l'aveva detto col Bologna, poi è logico che ragazzi, però io comprendo anche, che non è che trasferisci questi soldi così, e, secondo me, per assurdo, può anche essere anche meglio, che oggi non ci sia questa roba. Però sarebbe il caso, sarebbe però il caso, e questo è un po' Io un po' ci credo però Andy, se ti senti da solo. Ma ci dovete credere, ma se oggi c'è Piali. Ma se oggi c'è Piali. La comunicazione, così mi è stato anche detto, da chi sente abitualmente Di Silvio, ed è interessato alla trattativa, che vuoi dire, la comunicazione non è che sia, anzi, gli abbiano un po' detto di stare, magari di rallentare un po' il suo modo di comunicare, mettiamola così. Perché è sbagliato, perché così metti ansia, metti aspettative ai tifosi, cioè, e lo aspettiamo col Bologna, non c'è, e lo aspettiamo con la Roma, e non c'è. I soldi arrivano, 48 ore fa, e non sono arrivati, arrivano domani, arrivano venerdì, no, venerdì è chiuso, arrivano forse l'automobile, non va bene. Ma infatti, su quello ti do ragione, anche perché lui, stop, 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 è un intermediario, che per calcio, a stasera, a stasera per aggiornamenti, e andiamo, andiamo sul tuo palco. Luca ci sentiamo, magari se puoi, dopo per telefono, che ci racconti, o se riesce a bastare stasera, va bene? Sì, passo, volete passo, molto benissimo. Grazie mille Luca. Grazie mille.